Sì, è eccitante, ma scomodo, scomodo! Stai a sentire per la mano, stai a sentire calma. Scusi, mi faccio una domanda di amico? Grazie. 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 Ho vinto perché veniva dentro mia caccia, la stavo sempre, la stavo in mano. No, è possibile adesso avere un orgasmo in macchina. Diciamo, Rosso, alzi la mano che ho avuto l'orgasmo in macchina. Però voglio che mi vede anche da loro, ma nessuno sa perché non ha l'orgasmo indipendentemente da loro. Sì, questo hai ragione, certo? Non solo che la maggior parte degli uomini si incontra una donna frettina, è incapace che mi presti in discussione di pensare che magari la colpa è anche sua. No, lui pensa, è frigida, poverina, peggio che la mamma. Eh no, caro mio, non esistono donne frigide, ma sono uomini che poi ci risentono. Brava, stai distante. Ma ad esempio ho bisogno colpare se ti capita un fermo a fermo. Oh. Eh bene. Stai scusando con un fermo a fermo. Dai, su di su, non mi dire che non ti è mai capitato un fermo a fermo. Sono uno di quegli uomini che finché sei lì mi stai facendo la nuova e ti dice ferma, ferma! E tu rimani così, immobile, come una sacco di salto. E appena c'è lì, intercettivamente a muovere il bacino. Sì, ferma, ferma che viene male da pesce a mare e si trova male. Guardi che il mio Gianmarco deve ringraziare che non ha altri tempi di valore. Perchè tu dirai a poi dirmi che hai sempre fatto il suo lavoro con Gianmarco? Ma lo sai che siamo sbagliati a distinzione? Sì! Direi già così sì! Sono buttata da due! Ma come hai fatto? Perché io e Gianmarco ci siamo sbagliati molto giocati. Non è un primo grande amore. E poi mi sono chiesta, e se vado con un altro mi piace di più? Che faccio? Sì, ma neanche a rimanere con lei. Eh! Ma neanche a rimanere con lei. Ma neanche a rimanere con lei. Ma neanche a rimanere con lei. Questa è una persona con te. Guarda. Non lo so questo. Ma qualche volta mentre facevamo le ore l'ho sentita un po' diversa. E mi sono detta, vuoi vedere che è andata con un'altra e ha fatto il fatto? Oh, se ne hai guardato qualche ora! Sì, no! Io ero tutti e c'è un momento di dicione di due, no? Sì! Sì! Sì!